Buonasera a tutti, bentornati e benvenuti a coloro che non sono stati presenti nelle altre volte. Siamo ormai quasi al termine di questo corso, un corso, penso, interessante e che potremmo forse così sintetizzare nei contenuti che sono emersi dalle relazioni fino ad oggi. La cosa che è stata posta in evidenza è l'importanza del carattere identitario e insostituibile del bene culturale, storico, artistico, architettonico. Il bene culturale permette a tutti noi, prima di tutto, di rivisitare le nostre radici, la nostra identità culturale, artistica e permette di reinterpretarla alla luce dell'oggi. Questi sono i concetti emersi. Il bene culturale va quindi salvaguardato, va conosciuto, va interpretato. Il bene culturale, altro concetto emerso, mette in moto un percorso che nasce dallo stupore di fronte alla bellezza. Un percorso che è non soltanto di tipo estetico, ma è un percorso anche interiore, di tipo anche spirituale ed anche liturgico. Noi abbiamo parlato del bene culturale, ma soprattutto del bene culturale ecclesiastico, che nasce in una comunità con delle radici ben salde. Oggi siamo qui quindi per continuare il percorso di conoscenza dei nostri beni culturali. Abbiamo il professor Fabio Marcelli, che io ringrazio per essere qui con noi oggi. Fabio è il nostro conterraneo, nonostante la sua giovane età, è uno studioso autorevole di storia dell'arte, un ricercatore altrettanto autorevole e chiama una grande passione anche per il nostro territorio. insegna all'Università degli Studi di Perugia, quest'anno poi ha molteplici insegnamenti e ha al suo attivo tantissime pubblicazioni interessanti e alcune delle quali riguardano il nostro territorio, soprattutto il rapporto tra Marche e D'Umbria. Lui ha pubblicato numerosi scritti su Allegretto, di cui oggi parlerà, su Gentile, sul Maestro di Campodonico, che abbiamo visto precedentemente, addirittura sul Maestro di Campodonico ha curato una mostra tempo fa. ha studiato la scultura, l'Igna del nostro territorio, soprattutto del Fabrianese, e questo lo voglio dire, penso che sia da attribuire a lui, non penso, è da attribuire a lui anche il riconoscimento, l'attribuzione al Donatello della statua a linea di San Pietro, di cui tanto si parla in questi giorni. Quindi lo ringraziamo per essere qui con noi. Prima di darti la parola, Fabio, volevo solo alcune comunicazioni, perché poi alla fine arriviamo alle sette, quando la biblioteca chiude, non abbiamo più tempo. Noi siamo quasi alla fine di questo corso. Noi, la nostra associazione, anche la Dioce, si porta i saluti del Vescovo, purtroppo è impegnatissimo in un corso di spiritualità dei sacerdoti. E noi non vorremmo far finire questo nostro operare in favore della valorizzazione dei beni culturali ed artistici, soprattutto ecclesiastici, con questo corso. Vorremmo continuare con delle iniziative durante il periodo, insieme alla Diocesi, durante il periodo natalizio. Vorremmo lavorare su un percorso dei presepi. Pensiamo di poter avere nel nostro Museo Diocesano anche un qualcosa di veramente prezioso ed artistico. Poi vorremmo fare alcuni progetti, anche il Vescovo tiene moltissimo a questo aspetto, destinato ai giovani. La cosa che ci ha fatto molto piacere è aver avuto anche all'interno di questo corso molti giovani. Quindi invitiamo questi giovani anche a lasciare i loro nominativi per una disponibilità a collaborare con noi, proprio perché quando si parla dei giovani, se i giovani sono protagonisti di ciò che si va a progettare, è importante. Quindi chi è disponibile ci incontreremo a breve, lasci proprio nominativo perché ci piacerebbe proprio lavorare per i giovani insieme ai giovani. Poi anche a tutti coloro che non sono giovani, ma che in realtà sono appassionati. Ecco, non vorremmo perdere queste relazioni che si sono create e continuarle per lavorare insieme, per avere suggerimenti, proposte e incominciare a valorizzare i beni ecclesiastici facendo una piccola rete e per poter anche invitare chi di dovere ad allargare questo sistema e questa rete, chissà che un domani non possa veramente la bellezza far rivivere Fabriano. Grazie Fabio, a te la parola. Grazie. Grazie alla professoressa, a Monsignor Vesco e a tutti voi. Ho deciso di iniziare con questa immagine di Allegretto per omaggio a questo luogo. Questa grazie a una felice intuizione di Federico Zeri, ormai di circa mezzo secolo fa, che ha riconosciuto nei santi più importanti San Francesco e altri santi francescani, era in origine la pala d'altare della chiesa di San Francesco, quindi del complesso dove ci troviamo. E' un po' per certi versi anche l'esordio di Allegretto. Noi sappiamo che nel 1347 viene completato il coro di questa chiesa. Ci sono vent'anni fa ritrovati tutta una serie di pagamenti di quegli anni per dei lavori di decorazione per le pitture e le antiche fonti fabrianesi ricordano che come l'abside di questa straordinaria chiesa monumentale francescana fosse stata affrescata da Allegretto. Quindi vediamo Allegretto, autore di questa grande pala d'altare e come vedete l'ho messa anche successivamente, poi nel 1494 fu sostituita con la pala di Crivelli. Questa opera si trova su Thompson in Inghilterra con varie vicende e in origine era anche più grande. Era un'opera monumentale con cinque pannelli. I due pannelli laterali oggi si trovano a Houston negli Stati Uniti e questa è una ricostruzione ideale. Quindi conosciamo il nostro Allegretto qua dentro all'età di circa poco più che quarantenne nel pieno della sua carriera in quella che, come voi sapete, era la chiesa più importante allora di Fabriano anche più importante della chiesa matrice di San Benanzio. Ecco quindi che il nostro Allegretto emerge in tutto il suo splendore. Con lui, in quel periodo, è documentato un altro pittore che viene definito per certi versi il suo allievo anche se in realtà era più un socio Francescuccio di Cochissi documentato nel 1345 Allegretto compare nel primo documento fabrionese a noi noto nel 1343 legato alla confraternita di Santa Maria del Mercato la più grande e importante confraternita legale fabrionese che riuniva tantissimi artigiani e uomini della loro borghesia cittadina. Tra l'altro lui rimarrà legato a questa confraternita per tutta la vita e addirittura quando muore è la confraternita che aiuterà questa confraternita che aiuterà la vedova e la figlia ad avere ragione di una truffa. Che cosa succede? Allegretto muore nel 1373 aveva già fatto testamento e in articolo mortis evidentemente poverino insomma quando non era più capace di intendere e di volere dei truffatori gli fanno firmare un testamento in cui fa lasciare a loro tutti i beni e grazie alla confraternita di Santa Maria del Mercato che denuncia, supporta la famiglia insomma ci mettono quasi un anno abbiamo tutti gli atti del processo Allegretto riesce ad avere giustizia chiaramente gli eredi delle sue ultime volontà e questo vi fa capire anche un aspetto di quanto questo pittore per tutta la vita sia stato proprio profondamente legato alla sua città sicuramente più di Gentile perché Gentile come lo sapete ha trascorso quasi tutta la sua attività professionale fuori Fabriano e il testamento di Allegretto chiaramente quello vero è un documento bellissimo da legge che ti fa capire l'importanza di questo maestro nella società medievale cittadina lui lascia oltre ai beni e alla famiglia tutta una serie di lasciti, di donativi a 20 tra confraternite ospedali, conventi e chiese cittadine chiaramente è molto probabile che se non aveva lavorato per tutte se tutti questi eventi non erano stati sui clienti sicuramente 18 insomma perché il catalogo di Allegretto della sua scuola è ricchissimo parliamo di circa oltre 100-140 diciamo oggetti d'arte ascrivibili insomma a lui e alla sua scuola e questo fa capire però l'identità di questo maestro addirittura lui lascia una specie di testamento spirituale con delle parole molto interessanti in cui invitano anche i suredi a rispettare le leggi del comune insomma a seguire i principi cristiani insomma è una figura che sicuramente era molto molto ben voluta molto importante e insieme a lui in quella confraternita proprio in quegli anni è citato appunto Allegretto Franceschino di Cecco è un altro pittore importantissimo di una generazione precedente che si chiama Bartoluccio nel quale io ho ipotizzato per fare una serie di riscontri poter identificare lo stesso maestro di Campodonico insomma il cosiddetto pittore senza nome che molto probabilmente un nome ce lo ha insomma perché anche se poi insomma qualcuno se lo dimentica però sta di fatto sta di fatto che entriamo in questa nostra città ricchissima operosa molto vitale e vediamo questi pittori che lavorano per questa comunità e Allegretto appunto quantomeno ci lavora per 30-35 anni addirittura Franceschino Francescuccio di Cecco avrà anche la fortuna di vivere più di Allegretto allora il nostro Allegretto e questo sarà il tema della nostra lezione perché lo dobbiamo conoscere come pittore il nostro Allegretto essenzialmente però si forma a Firenze allora Firenze insieme a Roma a Venezia erano le due e tre grandi capitali dell'arte era una fuscina di botteghe un po' l'attrattivo notevolissimo e per certi versi il successo di Allegretto risiede in due aspetti particolari l'essersi formato a Firenze e quindi aver diciamo vissuto un linguaggio artistico modernissimo e poi nella seconda parte della sua carriera dopo l'esperienza foro fiorentina averlo portato a Fabriano e quindi aver portato una grandissima novità di linguaggio che poi fa la sua fortuna commerciale della sua bottega perché Allegretto non lavora solo a Fabriano ma lo troviamo a Perugia lo troviamo in provincia di Pesaro di Ascoli Piceno di Macerata quindi in tutta l'area appenninica il linguaggio di Allegretto diventa un marchio di fabbrica e un linguaggio di successo proprio perché porta qui nelle nostre valle appenniniche la grande pittura fiorentina e aggiungo senese poi c'è da dire un fatto l'ho detto anche ho tentato di mostrare in questo libro del 2005 che ho dedicato ad Allegretto lui è un pittore di una capacità tecnica straordinaria per certi versi si scherzava ai tempi con l'allora sindaco Sorci un classico pittore imprenditore insomma un grande uomo che grandissimo artista ma anche un uomo che sapeva far girare bene la produzione dei suoi quadri e vedremo come faceva insomma quindi un personaggio affascinante che ci fa capire tanto della cultura artigianale ci fa capire tanto della società del suo tempo e di come lavoravano le botteghe ecco quindi Allegretto a San Francesco e sempre a San Francesco questa è una foto di quando era ancora in situ è tutta dipinta l'edicola che voi tutti conoscete di San Filippo veneratissima Fabriano oggi staccata e visibile nella nostra Pinacoteca e quello che è un po' per certi versi l'esordio fiorentino di Allegretto quest'opera la conoscete tutti si trova nella nostra Pinacoteca e non è di Allegretto è di Puccio di Simone è però interessante perché come sapete quest'opera si trovava nell'ex chiesa ospitaliera degli Antoniani di appunto Sant'Antonio fuori le Mura oggi sono nella nostra Pinacoteca e il fatto che quest'opera fiorentina sia stata realizzata per Fabriano testimonia che cosa testimonia il fatto che a Firenze Allegretto collaborava principalmente con questo maestro Puccio di Simone uno dei grandi maestri del 300 fiorentino con lui questa come vedete è un autografo di Puccio di Simone mentre con Puccio di Simone Allegretto realizza una seconda pala d'altare per questa chiesa chiaramente la pala d'altare maggiore che adesso si trova a Washington nella National Gallery e come vedete i primi due pannelli sono realizzati da Puccio e la figura di Sant'Antonio inequivocabilmente è di Allegretto lo vedremo adesso nei dettagli quindi questa è una prova diciamo lampante proprio di questa collaborazione sicuramente erano soci in bottega sono molto importanti le date di queste opere di queste opere 1353 per il Sant'Antonio della Pinacoteca 1354 per il politico quindi questi dati sono importanti perché noi Allegretto lo scopriamo a Firenze iscritto nella compagnia dei pittori nel 1356 nel 1346 che significa questa cosa sicuramente Allegretto almeno fino agli inizi degli anni 50 continua a lavorare a Firenze molto naturalmente si divide tra Fabriano e Firenze quasi certamente infatti queste opere furono state realizzate a Firenze per Fabriano nella loro bottega e parliamo comunque di un periodo notevole quasi dieci anni quasi dieci anni ecco immaginiamo l'Allegretto appunto in questa grande capitale dell'arte educarsi e produrre opere notevolissime tra l'altro dieci anni più tardi per questa chiesa lavorerà ad affresco e è una cosa curiosissima nel 1369 per la città di Macerata lui realizza quest'opera che oggi si trova nel nel duomo di Macerata sono passati 15 anni sono passati 15 anni e come vedete realizza quasi una copia dell'opera per Sant'Antonio ma questo perché è uno dei casi curiosissimi che vi fanno capire tanto le dinamiche perché perché sia l'opera di Fabriano che adesso sta a Washington sia questa di Macerata vengono commissionate quindi pagate dalla stessa persona da frate Giovanni da Tolentino che prima era monaco scusate prima era rettore dell'ospedale di Sant'Antonio a Fabriano e poi come succede nelle compagnie si sposta arriva a Macerata e molto probabilmente poco dopo che arriva per la stessa compagnia dei Giovanniti di Macerata chiede un'altra opera quasi simile di Allegretto sono meccanismi normalissimi sono passati 15 anni comunque un bel lasso di tempo che vi fanno capire come funzionano i meccanismi della della committenza e dicevamo appunto il confronto entriamo dentro lo stile di Allegretto iniziamolo a conoscere guardate guardate questa immagine questo bellissimo dettaglio purtroppo è un po' tagliato sopra però guardate nella fisionomia e anche se questo è Allegretto vedete il volto un po' più tagliente la pinna nasale più allungata insomma Allegretto è inconfondibile come sono inconfondibili le opere della della sua scuola quindi ecco Puccio di Simone suo diciamo maestro collega socio Allegretto e vedete vedete qui il confronto Puccio di Simone vedete è molto più gentile delicato ammorbidito e vedete Allegretto per certi versi molto più 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 spigoloso ecco con questo volto quasi più triangolare insomma si vede subito la differenza questa è l'arte del conoscitore poter attribuire la mano di un pittore bene questi maestri lavorano insieme ma ecco che cosa mutua Allegretto a Siena e Firenze e perché parlo di Siena perché il documento del 1346 dove Allegretto compare a Firenze è abbastanza curioso nelle annotazioni del registro della compagnia di San Luca che annota gli scritti cioè coloro che appunto esercitavano l'arte della pittura quindi iscrivendosi alla compagnia di San Luca e questo è importante nel 1346 Allegretto non era un garzone di bottega non era un collaboratore di bottega ma era un maestro era un pittore autonomo e c'è questa annotazione che magari a Fabrianesi non ci fa onore perché a un certo punto dice Allegretto di Nuzio da Siena non da Fabriano insomma ma non è che in qualche modo Allegretto si vergognasse delle sue origini con tutto il rispetto della provinciale Fabriano rispetto a Siena ma perché questa è una annotazione molto importante perché Allegretto direttamente scrive questo perché la prima parte della sua attività l'aveva sicuramente trascorsa a Siena altra grande capitale artistica e la via per Siena era per certi versi molto più più diretta perché praticamente passava per Gubbio per Fabriano soprattutto Gubbio dove già dalla cultura giottesca per certi versi Gubbio è stata sempre un enclave artistica senese fin appunto dagli inizi del Trecento e addirittura anche prima fin da Cimavue ecco quindi che questo è un dato importante molto probabilmente infatti nel primo Allegretto si vede sia Ambrosio Lorenzetti uno dei grandi maestri della cultura senese ma comunque quello che emerge e che decreta proprio il successo triunfante dell'Egretto è proprio questa cultura e qual è la cultura fiorentina del tempo? è quella che si lega Bernardo Daddi e tutta una schiera di 70-80 pittori che conosciamo negli archivi che sviluppano un linguaggio molto preciso nella prima età del Trecento si agganciano alla tradizione giottesca ma soprattutto si agganciano a quello che è il carattere lussuoso decorativo voi sapete che la Toscana in modo particolare Firenze e Prato sono erano le capitali italiane delle arti tessili della seta e nelle opere di Allegretto c'è proprio questo come c'era appunto nella grande arte fiorentina il racconto di queste vesti lussosissime di questi lampassi di queste sete di questi motivi a che so a pappagalli a fiori di ascendenza islamica insomma molto 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 antichi quindi trasferire sulla tela quelli che erano gli abiti in assoluto più lussuosi che solo pochissimi si potevano permettere e questo lusso questo lusso trionfante potentissimo soverchiante che veramente pochissimi si potevano permettere proiettato sulla tela scusate proiettato sulla tavola sul fondo oro schiacciato sul fondo oro fa sì che lo spettatore aveva di questa immagine davvero un'immagine divina inarrivabile per i più trascendente assoluta no e questo sicuramente incantava e questo no il successo della grande arte di allegretto realizzare delle opere preziosissime costosissime lussuosissime e per certi versi delle icone neobizzantine gli aspetti inarrivabili guardate questo dettaglio della pala di macerata vedete la qualità dei tessuti stupefacenti ecco questa è la firma scorro abbastanza veloce perché i tempi sono stretti e guardate a confronto con le stesse cose che faceva Puccio è proprio lo stesso linguaggio vedete questi motivi a pappagalli vedete questo è sempre Puccio guardate questo vestito di questa Santa Caterina questo tappeto ho messo questo bianco e nero per fare vedere il lavoro con i nimbi il lavoro proprio di cesello che viene fatto per le decorazioni in pastiglia a rilievo in basso rilievo insomma degli ori e guardate questo dettaglio di questi peducci con queste colonnine di incrocio come c'è proprio questo horror vacui del lusso la volontà di riempire totalmente gli spazi con questo decorativismo guardate questi piedi che poggiano su questo tappeto dorato e questo vedete è uno dei tessuti è uno dei tessuti messo messo a confronto dove si vede più o meno lo stesso motivo ma guardate l'attenzione del dettaglio mi ricordo nel 1995 proprio agli albori del palio di Fabriano avevamo ripreso tanti costumi da queste opere fabrianesi di Allegretto guardate questo è chiaramente sempre Puccio però praticamente parliamo della stessa cosa guardate questa questa armatura che meraviglia gli speroni e quello che vedete adesso annerito è praticamente dello stagno che in origine era dorato insomma adesso aveva tutta un'immagine adesso il processo di ossidazione ce l'ha fatto perdere guardate questo dettaglio curioso nel Santo Antonio addirittura arriva a dipingere un cinghiale insomma con una visione proprio molto molto dettagliata al posto del maglialino di Sant'Antonio che accompagna questo Santo Allegretto ci dipinge un cinghiale insomma una cosa curiosa poi tra l'altro sto leggendo sui giornali adesso questi giorni è proprio molto in tema però allora guardate la moda guardate che bellissima fonte la fasciatura di questo bambino è proprio il mondo di Allegretto e questi sono non sono abiti inventati è proprio la moda più lussuosa del tempo e questo è Bernardo Daddi il caposcuola di questa grande scuola fiorentina e vedete le tangenze vedete è evidentissimo Allegretto parla lo stesso linguaggio di questa grande pittura guardate 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 questa meraviglia questo è Andrea Orcagna e questo è il celebre progetto dell'altare di San Michele di Orcagna che fa capire qual è la cultura che viveva una cultura cosmopolita lussuosissima di grandissima vitalità di grandissima vitalità e immaginate sempre il trasferimento di questa cultura dalla ricchissima Firenze alla ricca Fabriano diciamo alle ricche marche ma che comunque non raggiungevano qual era l'impatto l'impatto emotivo diventa praticamente avere un'opera di Allegretto diventa il top potersi permettere potersi presentare la propria città come il committente di un'opera di Allegretto diventa praticamente porta un valore aggiunto porta una grande importanza a questi committenti lo stesso accade per Gentile da Fabriano quando Gentile da Fabriano diventa in vita il pittore più conteso d'Europa e quindi pagare un'opera di Gentile insomma significava presentarsi al massimo conoscesse tutti la celebre battuta di dello strozzi che quando scrive sul suo libro dei conti dell'adorazione magica quando ho iniziato a fare a progettare questa cappella insomma che ho chiamato Gentile insomma avevo tanti sogni però adesso che sto finendo il libro dei conti diciamo non mi sono reso conto bene a che cosa andavo incontro insomma e lui che era l'uomo più ricco di Firenze era il banchiere più ricco di Firenze insomma quindi se in qualche modo si lamenta lui insomma potete immaginare di che cifre stiamo parlando ecco questo è sempre il daddi questa è un'altra bellissima opera dell'allegretto fiorentino che si trova a Detroit un bellissimo altarolo non guardate chiaramente la cornice che è rifatto ottocentesca insomma però ecco vedete è questo il mondo e torniamo tra le nostre montagne guardando quest'opera si trova a Berlino è una crocifissione molto rovinata l'ho messa in bianca e nero perché è molto rovinata si vede tutto il rosso cioè il bolo di preparazione in maniera molto pesante però guardate l'iconografia è l'allegretto per certi versi più verace è l'allegretto più appenninico è l'allegretto diciamo meno fiorentino è l'allegretto che guarda Giotto al grande patetismo di Giotto è l'allegretto che guarda al maestro di Campodonico ricordiamo la crocifissione di Urbino che ammiriamo in Pinacoteca è del 1345 all'allegretto a questa data era già in attività insieme a Francescuccio e quindi è un humus che all'allegretto viveva e vedete vedete nell'atteggiamento di Maria Vergine vestita di nero come nelle sacre rappresentazioni nella settimana santa c'è tutto un'ecode del maestro di Campodonico con questa madonna poverina che schianta dal dolore insomma perde totalmente le forze e si appoggia con tutto il peso sulle piedonne e vedete il patos di questa crocifissione è l'allegretto proprio più giottesco più autentico più verace è l'allegretto più fabrianese no? perché questa è la nostra cultura il pellicano e lo ritroviamo in questo affresco che voi tutti conoscete perché si trova nella sacristia di San Domenico è una delle cose secondo me più antiche di allegretto dove vedete è un allegretto che è proprio vicinissimo al maestro di Campiodonimo guardate poi i dettagli guardate questo gesto scusate facciamo anche un po' di iconografia guardate questo gesto tipico della lauda Iacoponica della poesia delle sacre rappresentazioni con la Madonna che scusate con la Madonna che apre la le braccia e invita lo spettatore a partecipare al dramma che si sta vivendo guardate il dolore di San Giovanni ma guardate la figura di Nicodemo con Nicodemo che lo vedete qua porta il martello e le tenaglie per schiavellare i simboli della passione questa è una foto di una sacra rappresentazione come la realizzava Giotto come la realizzava il maestro di Campodonico questo è proprio il teatro sacro medievale che viene trasposto in pittura anche da Legretto infatti ho fatto il confronto con la crucifissione che è stata staccata da San Domenico di Fabriano del maestro riminese della crucifissione d'Urbino e ugualmente con il maestro Campodonico per vedere la tangenza di cultura quindi un maestro tipicamente fiorentino che però nella sua poesia nella sua poetica nella sua espressività è comunque veracemente appenninico veracemente magari dopo non lo sarà più lo vedremo ma questo è il primo Allegretto altro capolavoro bellissimo che si trova in Svizzera ma come vedete dall'iconografia questo è San Domenico quindi molto probabilmente proviene dalla chiesa di Santa Lucia e molto probabilmente questa è la moglie di Chiavello Chiavelli che era molto legata alla chiesa di Santa Lucia questa donna insomma ecco però guardate che livello di qualità come pure la è un po' nascosta però orna la nostra cattedrale insomma la stupenda bellissima crocifissione che sta nella parte dei resti della certi trecenteschi della nostra cattedrale guardate ancora questi dettagli queste sono opere degli anni 40 50 di Allegretto potentissime scusate se faccio una carrellata veloce però appunto non le potremo vedere tutte le opere attribuite da Allegretto e guardate in questo dettaglio di questa tavoletta che faceva Pandanna ecco questa è la firma di Allegretto guardate questo trionfo questo vestito questo questo trappo sono opere raffinatissime Avignone un'altra opera stupefacente e guardate notate un aspetto su questa opera perché questo così vi abituate un po' perché non è vero dici sì le opere di Allegretto in teoria sembrano tutte tutte uguali sì lo stile è quello però per esempio c'è un rapporto già diverso per esempio nelle opere che abbiamo visto Allegretto è un pittore più più plastico più giottesco cioè lavora con la luce per guardate queste queste immagini lavora con la luce per modellare meglio i corpi in altre opere soprattutto quelle degli anni 60 le immagini diventano più leggere più piatte come accade in questo caso vedete dove c'è meno visione dove c'è meno morbidezza dove c'è meno consapevolezza plastica da questo punto di vista guardate che e questo è un dato abbastanza evidente nell'arte di Allegretto diciamo l'Allegretto più verosimente giottesco degli anni 40 50 e l'Allegretto degli anni 60 70 più leggero più morbido insomma per certi versi più iconico ma guardate anche qui che meraviglia queste tra l'altro sono immagini abbastanza curiose che vi fa capire anche il nostro Allegretto è stato molto apprezzato durante l'Ottocento dal collezionismo e l'anno scorso nel museo di Raleigh è stato negli Stati Uniti è stata fatta una bella operazione cioè ricomporre un paliotto d'altare che è sparso fra cinque musei americani lo hanno ricomposto e come fanno negli Stati Uniti insomma ci hanno costruito intorno tutta un'azione di promozioni di educazione che fa onore all'opera di Allegretto anche se c'è da dire purtroppo hanno giustamente hanno in qualche modo tralasciato e questo ecco l'opera ricomposta vedete gli hanno praticamente rifatto la la cornice una cornice una cornice ex novo per ricomporla e questi sono vari pannelli sono storie di San Giovanni evangelista e molto probabilmente anche se io ho ancora alcuni dubbi quest'opera forse era il paliotto d'altare della perduta chiesa di di San Giovanni insomma del del poggio che è appunto dedicato all'evangelista e guardate che operazione hanno fatto adesso questa è una nota di colore insomma hanno ricostruito tutta la preparazione il gesso i punzoni i punzoni utilizzati di Allegretto la doratura l'applicazione delle lastre fino ad arrivare al sistema proprio dei punzoni infatti Allegretto ad esempio è noto per essere un grande inventore di punzoni di sistemi della doratura qui ne ho messi alcuni vedete delle forme semplici che vengono poi replicate aggiunte per ottenere queste decorazioni e questo vedete sono tutti i punzoni che cosa erano erano appunto degli attrezzi che poi venivano combinati insieme per creare delle forme per lavorare sulla lamina sulla foglia d'oro e questo ci fa entrare di più dentro la bellezza fino ad arrivare addirittura a una copia ex novo dell'Opera Allegretto comunque dal punto di vista didattico sono operazioni interessanti che fanno proprio capire la ricchezza di questo messo perché è importante trasferirle da questo punto di vista Allegretto e Gentile sono uguali entrambi sono dei maestri che tecnicamente sono stupefacenti certo Allegretto non arriva a livelli di Gentile perché parliamo di un ottimo artista nel caso Allegretto di fronte a un genio chiaramente gli equilibri vanno mantenuti però comunque è interessante e vi avevo messo anche direttamente una breve riflessione che è abbastanza curiosa su quello che significa stare con Allegretto dentro la bottega questo è il pentittico della nostra pinacoteca vedete il sistema di assemblaggio originale delle tavole cuspidate vedete gli incastri facciamo adesso entriamo nella bottega perché questo è un caso veramente straordinario perché si è conservato tutto intatto come era come uscito dalla bottega di Allegretto guardate questi sono i cavicchi di legno che venivano utilizzati per tenere insieme le le tavole ecco vedete l'alloggiamento dei cavicchi in questo caso ecco un alloggiamento che è stato poi e guardate no il livello di ricchezza vedete questa zona questo è il gesso è il gesso che veniva come avvenì come avveniva la preparazione c'era il carpentiere che lavorava a preparare la tavola poi siccome il legno è una materia viva avveniva quella che si chiama la cosiddetta incamottatura veniva applicata della tela che a contatto della tavola permetteva in qualche modo di far sì che la pellicola pittorica non toccassi direttamente sul legno ma sulla tela in modo tale che la tela faceva appunto da camera di compensazione rispetto ai movimenti della tavola quindi solitamente avveniva così la tela veniva messa nelle giunture nelle giunture di di congiunzione delle tavole per che hanno appunto quelle più delicate sulla tela poi sulla tela poi veniva applicato del gesso sul gesso la preparazione che serviva appunto da collante per i pigmenti il cosiddetto bolo questi elementi color rosso che vediamo e infine il pigmento quindi vedete tutto un sistema di profonda maestria che aveva un solo obiettivo lavorare per far sì di produrre un prodotto eccellente capace di superare indenne tutte le avversità ambientali quindi umidità e via di scena e guardate vedete questo è il gesso è il gesso originale poi vi farò vedere in alcuni punti la tela vedete qui questa è la tela vedete questi sono si vede male però comunque queste sono le trame della tela che il gesso è caduto vedete questo è il bolo di preparazione il collante che appunto doveva tenere ferma incollata la lamina ecco vedete questi sono dettagli del bolo vedete questa guardate il livello di ricchezza tra l'altro la tela costava era un costo notevolissimo e in questo caso addirittura non solo le giunture ma tutta la tela tutta l'opera rivestita da tela quindi cioè perché di solito ecco mettendo la tela sulle giunture si andava a risparmio rivestendola tutta insomma i costi chiaramente erano estremamente diversi e guardate l'esito finale di queste dorature guardate poi questo bellissimo dettaglio questo non è un dettaglio un'opera d'allegretto comunque siamo nella scuola purtroppo le condizioni luce non sono buone abbiamo questa fonte qua che non ci aiuta però c'è una pittura sull'oro come un po' poi faceva Gentile che dà proprio questo effetto tra blu con l'oro sotto traslucido cose proprio di una raffinatezza notevolissima guardate altri dettagli adesso farò scorrere abbastanza velocemente però è bene che cominciate sempre più con gli occhi ormai state entrando dentro questo mondo di allegretto questa è una cosa meravigliosa guardate che dettaglio questo abito questo abito questo caso si chiama Francescuccio di Vicecco viene realizzato con tutte delle lumeggiature delicatissime delicatissime di bianco che praticamente danno proprio il segno della luce che accarezza questo abito lo rende ancora più lussuoso guardate che meraviglia guardate questi effetti è un abito bellissimo stupefacente borsette insomma altri dettagli e poi l'altro grande segreto della pratica di bottega di allegretto i cosiddetti patrones che cosa sono i patrones? non li inventa allegretto chiaramente è una pratica che addirittura si utilizza nella pittura romana li utilizza Giotto erano essenzialmente delle sagome di carta cartone no? carta solitamente ecco cartone carta bambagina insomma no? pressata anticamente erano addirittura di legno che cosa servivano? erano classiche forme no? forme di braccia di gambe di busti di teste che che in qualche modo servivano a a a rendere più veloce il lavoro no? perché il pittore le componeva le componeva poi tracciava velocemente i contorni e poi dipingeva dentro no? insomma è diciamo un antenato dei cartoni dei cartoni rinascimentali no? e vedete no? per esempio in questo affresco di allegretto che sta nella nostra cattedrale no? ho definito no? vedete dei patrones vedete le forme patrones è divertente perché l'abbiamo fatto 12 anni fa 13 anni fa per questo libro no? è divertente per prendere sui nostri affreschi no? le misure naturali no? fare il rilievo naturale di questi patrones poi andare in pinacoteca e vedere come combaciono esattamente sulle opere della pinacoteca no? c'è proprio questo lavoro di serialità no? tra virgolette di catena di montaggio no? insomma per essere insomma molto sintetici no? guardate no? per esempio questo è un grafico che fa vedere l'utilizzo di una stessa forma per tre teste no? in tre opere quindi praticamente le ho sovrapposte con con vari colori no? e queste sono le immagini originate vedete no? c'è proprio questo senso anche perché ripeto quella di Allegretto era una bottega veramente quasi un'industria no? della creazione quelle che oggi si chiamerebbero industrie creative no? industrie creative insomma ecco ne abbiamo un esempio per certi versi insomma faccio vedere altri dettagli questo è Francescuccio di Cecco però ecco guardate altri dettagli queste praticamente sono dei dettagli dell'opera che poi è stata ricomposta guardate questa scena del crollo degli idoli dove sembra quasi mimare l'effetto proprio di un terremoto no? riproduce proprio anche l'effetto di crollo di un terremoto guardate guardate l'idolo che si spezza no? questa statua che si spezza e cade a terra guardate questa colonna le macerie e guardate velocemente gli abbigliamenti il dettaglio queste sono tutte storie appunto di San Giovanni Evangelista guardate questo dettaglio di questi pellegrini che offrono un dono un donativo un omaggio con dei soldi al Santo e guardate la ricchezza di questo mondo guardate questo dettaglio bellissimo che lui mutua da giotto che poi riproporrà gentile poi riproporrà masaccio di questa ricerca della spazialità con questa figura che si piega in avanti e in qualche modo misura lo spazio guardate con questo bellissimo dettaglio con questa immagine proprio scorciata e cominciate a conoscere anche Francescuccio Ghissi rispetto a Legretto fa immagino ancora più allungate più filiformi sono differenze sottili insomma però si notano anche se qui ci interessa di vivere quella che è la guardate anche la gestualità di quest'opera e poi guardiamo un'altra cosa che è molto legata alla nostra storia mi sembra che avete già sviluppato una lezione sulla scultura linea fabrinese quindi non so se avete parlato già di questa di questa opera guardate a confronto questo è un l'abito del Santo Stefano della nostra Pinacoteca stupefacente di Allegretto con questa veste bianchissima tutta granita d'oro granita d'oro un'opera raffinatissima potentissima e guardate questo dettaglio commesso in controluce di questa scultura purtroppo queste sono foto di prima del restauro adesso ve lo posso assicurare perché ho la fortuna di vederla questa opera è tutta bianca è quasi arrivata a questo livello qui c'era ancora sporco vedete questa è una scultura linea e questa sulla scultura linea sono state fatte le stesse graniture lo stesso lavoro di punzone sull'oro che è stato fatto sulla tavola che cosa è successo in termini molto spicci le sculture pur essendo tridimensionali pur essendo chiaramente molto più complicate da gestire di una tavola venivano comunque realizzate dipinte e decorate con lo stesso modo delle opere d'arte su tavola quindi tela gesso collanti colore e lamina applicata qual era infatti il processo solitamente la scultura era frutto della collaborazione fra due grandi bottega maestri la bottega del legnaiolo l'esperto nel preparare nell'assemblare le tavole del cosiddetto legnaiolo carpentiere che sbozzava e il pittore perché quella che è il concetto non so se ne avete parlato la scorsa lezione della scultura medievale appunto il concetto di risparmio di lavoro di risparmio non dobbiamo immaginare queste sculture come le immaginiamo come certi scultori trentini altatesini che realizzavano perfettamente l'immagine plastica con il legno i nostri maestri appennici medievali le sbozzavano e poi arrivava il pittore con il gesso che le modellava gli dava appunto la forma più gentile e le dipingeva era proprio un lavoro in team poi capitava anche che il pittore era un bravo l'agneguolo insomma sta di fatto che è molto divertente vedere proprio l'opera d'arte bidimensionale su tavola dipinta dallo stesso maestro e la contiguità con l'opera d'arte tridimensionale scolpita dipinta dallo stesso maestro io infatti sono fermamente convinto che mentre le opere del maestro dei magi in qualche modo sono della bottega di allegretto di franceschino di francescuccio di tutti questi maestri questo quest'opera che vediamo no vediamo qui in bianco e nero più o meno la conoscete tutti questo è un capolavoro assoluto di allegretto perché perché mentre le opere del maestro dei magi tecnicamente sono per certi versi sì vicini a questo stile ma condotte vi ho risparmio questa è una scultura di un luco questa siamo di fronte a una delle più grandi e più belle sculture linee di tutto il trecento italiano tutta fatta con questa lamine d'oro cose che il maestro dei magi si sogna cose raffinatissime che cos'è? è allegretto che viene chiamato molto probabilmente dai monaci di San Biagio in Caprile o forse da un committente privato di Campodonico di decorare a suo modo come faceva con le tavole questa grande scultura linea e voi sapete che ormai sono circa più di trent'anni che questa opera manca da Fabriano fu pubblicata nel 1951 a Molaioli nel 1915 ne parlò Venturi poi Zeri fortunatamente insomma per certi versi visto lo stato in cui insomma per la comunità di Campodonico so che è anche una ferita aperta perché la devozione della comunità di Campodonico verso questa quest'opera è fortissima adesso si trova fuori Fabriano molto protetta però ecco siamo di fronte a un capolavoro assoluto vedete è l'allegretto su tavola guardate che meraviglia guardate questi dettagli stupefacenti guardate queste pietre queste sono pietre vere originali guardate queste queste pastiglie questo lavoro questo è il grande allegretto e guardate alcuni confronti con immagini dipinte d'allegretto guardate questi bambini si capisce ormai che avete abituato gli occhi a conoscere allegretto che siamo su questa linea su questa sua lunghezza lunghezza d'onda ecco quindi che quella di allegretto è una bottega e quando parlo di allegretto parlo di allegretto francescuccio franceschino altri nomi di altri due pittori di una bottega che possiamo definire polimaterica cioè ovvero che lavora su più materie su più manufatti e policentrica ripeto abbraccia un'area molto ampia dell'Umbria e delle delle marche altre opere che magari conoscete di allegretto il politico di apiro il nostro politico della pinacoteca che meritoriamente è stato finanziato e restaurato recentemente dal Rotary e ancora vedete l'altro trittico della nostra pinacoteca come pure la grande itinerario e per certi versi ne parleremo anche sabato nella nostra visita su l'itinerario da fresco quindi la cattedrale San Nicolò San Domenico il portico dei Vasari c'è un altro lacerto qui nel nell'oggiato insomma che vi conoscete e via dicendo la città che respira l'arte della scuola di allegretto parleremo domani di altre opere di allegretto perché le ho un po' distinte scusate parleremo giovedì di altre opere di allegretto perché parleremo di un tema iconografico specifico e ci sono appunto anche soggetti anche molto molto rari questa è la peccatrice di di Babilonia una figura apocalittica che si lega poi alla alla crocifissione la grande decorazione di Santa Lucia che unisce tre grandi culti il culto per Sant'Orsola il culto per San Nicola e il culto apotopaico per di San Michele Arcangelo Psicopompo insomma che quindi grande giudice che ci lega anche legato al quartiere del Piano dove insiste il complesso di San Domenico a non solo una devozione domenicana ma anche a delle devozioni legate ai produttori di pannilana e cartà in modo particolare Sant'Orsola San Nicola patrono dei mercanti insomma quindi vedete come Allegretto diventa interprete della sua comunità come dicevamo all'inizio di questa conversazione parlando di di questi lasci lui chiaramente era lui e Francescuccio erano pittori proprio di riferimento avevo godevano di uno status sociale importante a Fabriano ecco comunque questo è il miracolo delle tre palle d'oro di San Nicola insomma queste sono immagini che per voi che conoscete la città fanno parte del nostro patrimonio visivo e ne siamo appunto orgogliosi ho fatto bellissima questa veduta del viaggio di Sant'Orsola verso Colonia dove le asperità del muro le asperità del muro dell'intonaco dell'affresco fanno quasi un po' di mare mosso e ecco quindi trovare un senso di continuità tra allegretto e gentile sta proprio in questo no? Voi conoscete alcuni aspetti della della biografia di gentile sicuramente conoscete il fatto del padre legato per certi versi è documentato la produzione di carta che rimasto vedo poi abbraccia la comunità degli olivetani di Santa Caterina d'Alessandria che voi tutti conoscete e per certi versi la bio fabrianese di questo giovane maestro che molto realmente fin da piccolo anche perché orfano con un padre che aveva fatto questa scelta religiosa molto forte viene mandato molto realmente adolescente ad educarsi fuori molto realmente in Italia settentrionale e abbiamo già citato il grande talento il riconosciuto successo e questi maestri proprio dialogano dialogano perché sanno essere nella loro epoca apprende gentile più o meno nasce quando Allegretto muore intorno al 1375 e entrambi per certi aspetti muoiono anche giovani gentile muore muore poi nel 1427 un anno prima di Masaccio e c'è appunto questa contiguità che li lega non solo nella comune appartenenza natia ma soprattutto nel saper interpretare l'arte lo spirito più emozionante più bello più più convolgente guardate io ho messo per fare un salto da Fabriano a Parigi questa stupenda orificeria francese di fine 300 perché questo poi è il mondo che conosce gentile in Italia settentrionale il mondo delle corti del lusso gentile studia tantissimo le tecniche orafe e come fa del resto allegretto poi le applica nella nella sua opera gentile è tecnicamente più geniale ancor più di allegretto perché proprio usa la tecnica proprio come un mezzo espressivo per lui la tecnica diventa poetica pennello lui riesce a fare delle cose incredibili gentile più o meno di gentile conoscete molto anche perché avete sicuramente visitato la mostra del 2006 però vorrei chiudere questo nostro viaggio con una riflessione molto particolare una riflessione sulla modernità di gentile allegretto l'abbiamo visto a grande successo nelle Marche nell'Umbria nell'Appennino perché porta il linguaggio moderno il più avanzato di allora quello fiorentino fiorentino giottesco gentile diventa il pittore più conteso d'Europa una vera propria star come una generazione dopo lo diventerà a Perugino sono noti questi documenti di gentile che viaggiava con un corteo di cavalieri insomma come veramente un grande principe i bellissimi documenti di Orvieto che quando lo accolgono ad Orvieto gli organizzano una grande festa di dolci insomma perché allora offrire dei grandi banchetti di dolci spendere tantissimo insomma per questi grandi battetti era un gesto di grande onore insomma per accogliere una grande personalità cioè stiamo parlando di una vera propria star assoluta gentile e gentile trasferisce proprio questo mondo il mondo internazionale delle corti del lusso delle fiabe il mondo che questo è bellissimo Tacuina Sanitatis di Pisanello il mondo che guarda la natura cerca di prendere l'aspetto del meraviglioso del fantastico la descrizione del realismo insomma lenticolare il mondo dei codici miniati della ricerca scientifica dei primi tentativi di catalogazione botanica zoologica insomma gentile e affascinato voi tutti sapete che nella adorazione dei magi sono decine le specie vegetali che botaniche che gentile dipinge con questo approccio lenticolare e questa è l'immagine appunto di gentile il disegno della perduta tomba di gentile il ritratto di gentile e in questo breve cammino vorrei focalizzarmi appunto sulla modernità di gentile questa è l'opera che molto probabilmente proveniva da Santa Caterina anche se poi in tempi più recenti è documentata a San Nicolò e vedete appunto il gentile per certi versi più europeo un'opera che qualche modo segna si trova a Berlino e segna un momento di congiunzione io avevo fatto una proposta di identificare questo questo stemma con un mercante di carta poi recentemente sembra quattro anni fa c'è stata un'ulteriore proposta da parte una bravissima studentessa che ha precisato ancora più l'identificazione di questo mercante e vedete appunto questo mercante c'è questo bellissimo dettaglio che voi conoscete dell'anello con il simbolo dipinto con questo simbolo dipinto con il mercante di una ricchezza e qual è appunto la modernità di gentile è un discorso che faccio spesso ai miei studenti quando parlo del problema del rinascimento diciamola così insomma io chiaramente il rinascimento lo prendo lo prendo sempre con le molle perché è anche tutta un po' una costruzione ai tempi insomma di un po' di propaganda allora 1401 andando a leggere i manuali di storia dell'arte con il concorso per la porta del battistero di Firenze insomma viene fatto nascere il rinascimento 1401 la stessa data in cui nasce Masaccio e ok quindi poi Brunelleschi insomma Masaccio tutti i nostri grandi amici e chiaramente la storia dell'arte non si fa in provetta c'è una continuazione di stili un'evoluzione gioco forza i manuali l'educazione manualistica deve fissare dei paletti dal punto di vista didattico poi la realtà è ben altra cosa e quello di Gentile è un caso veramente affascinante perché noi conosciamo Gentile come il grande maestro del gotico internazionale quindi in teoria un'arte antica per questo fu molto azzeccato il titolo della mostra del 2006 Gentile l'altro rinascimento perché c'è un altro rinascimento non solo quello prospettico perché Gentile non fu da meno nell'essere moderno nell'essere innovativo Masaccio grande genio del rinascimento guarda tantissimo rimane folgorato dalle opere di Gentile maestro di una generazione più anziana della sua guardate questi dettagli la Madonna di Perugia che lui molto probabilmente realizza o a Venezia o dalle nostre parti intorno 1404 5 è un'opera stupefacente dipinta nemmeno sul gesso ma sull'amina sull'amina d'argento e di stagno in modo tale che il colore poi mettendo meno o più colore insomma facesse trasparire gli effetti di questi colori argento quindi con effetti luci stupefacenti è un'opera di una complessità incredibile vi ho messo questo confronto anche se questa l'ho un po' caricata magari l'avrete vista tutti avete tutte presente questi lavori che lui utilizzando una tecnica dell'oreficeria francese realizza questo dipinto punto su punto realizza sei angeli qui ne vediamo due punto su punto sulla l'amina d'oro e addirittura Dorvieto fa la stessa cosa da fresco riesce a fare questo 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 gioco realizza questo affresco come se fosse dipinto su l'amina d'oro insomma quindi vedete con che capacità con che fantasia con che capacità illusoria e sicuramente gli orvegliani gli hanno proprio chiesto questo di fare una cosa simile all'opera di Perugia che aveva lasciato tutti stupefacenti in quegli anni poi Gentile viveva a Venezia lui a Venezia ci sta quasi 20 anni e a Venezia praticamente diventa il in una delle città più importanti d'Europa lui diventa il pittore più importante di Venezia ma guardate il lascito fabrionese di Gentile che è stupefacente questa opera è commovente il celebre stendardo che Gentile realizza per la confraternita di San Francesco qui accanto in via San Filippo stendardo diventa talmente prezioso che come voi sapete nel 1452 quindi circa 30 anni dopo la sua vettura chiedono ad Antonio de Fabriano di realizzarne una copia fedele insomma perché sicuramente portavano quello di Antonio in processione non quello di Gentile insomma copia di cui si conserva a Vienna l'incoronazione della Vergine e guardate che meraviglia la poesia della luce potentissima guardate questi effetti di incisioni sulla lamina d'oro stupefacenti questa opera mi sembra stata portata anche alla mostra del 2015 quindi l'avete ben ammirata è un'opera veramente stupefacente sconvolgente che si lega tantissimo all'interpretazione francescana di Giotto e questa è la stessa scena del politico di Valeromita più o meno 1405 ecco pensate questo pensate a un pittore che riesce a fare queste cose e pensate a questo pittore che nel 1423 è un po' la storia dell'adorazione dei magi viene chiamato dal banchiere più ricco di Firenze che si poteva permettere appunto di chiamare Ghiberti di chiamare Masaccio tranquillamente e perché chiama Gentile no? perché lui è l'uomo più ricco di Firenze che si poteva permettere il meglio della piazza fiorentina il meglio degli artisti dei pittori rinascimentali che abbiamo studiato tutti i nostri manuali e un mirato nei musei nelle chiese di Firenze perché chiama Gentile da Fabriano perché era il pittore più importante d'Europa non stavano a guardare tu sei gotico tu sei rinascimentale tu sei come ci abbiamo abituato nei manuali no no assolutamente chiama l'uomo che gli poteva portare più ritorno d'immagine no che poteva dire io sono l'uomo più ricco e con l'adorazione Magi dimostro di essere l'uomo più ricco di Firenze no è tutto qui e questo la dice tutta no la dice tutta su quello che poi sono i veri valori i veri valori guardate che meraviglia guardate le nostre montagne no che guardate questi dettagli con le nostre montagne che allora erano molto più brulle di quanto le immaginiamo adesso dopo le riforestazioni ottocentesche tutti i piani cioè questo è il paesaggio veramente per certi versi scusate che avevo messo aiuto avevo messo cinque minuti ho finito perché per non rubare tempo al collega insomma che viene dopo di me insomma allora e guardate no l'incoronazione della Vergine e come dico sempre spesso un esercizio che con i miei studenti viene più difficile ma con voi facile voi tutti conoscete Valleremita l'eremo di Val di Sasso e immaginate il politico di Valleremita è un'opera lussosissima in quel piccolo oscuro luogo francescano umile immaginate questa esplosione di lusso in questo luogo che vi fa capire tante cose Foligno non ho tempo di entrare ecco vorrei chiudere su tre aspetti della modernità di Gentile la città vedete anche lui questa è una è la predella di Parigi dell'adorazione dei magi una descrizione sociale della città i derelitti i ricchi la presentazione del tempio Gentile che tenta di fare questa visione prospettica questa descrizione di Firenze guardate questo bellissimo dettaglio di queste ombre di questa scala che entra dentro nel secondo piano e poi questa immagine stupefacente Gentile pittore di luce pittore di paesaggio quasi per certi versi un impressionista anteliteram cioè lui che aveva talmente natura e bellezza negli occhi che la restituisce come nessuno anche meglio dei nostri amici tra virgolette pittori rinascimentali guardate questo gioco di luce di questa pastiglia d'oro queste lamine d'oro e la luce del pieno mezzogiorno che bagna che bagna con questo grande impatto proprio atmosferico il paesaggio questa è vera propria pittura di paesaggio è vera propria pittura di luce è di una modernità sconvolgente di una modernità sconvolgente e guardate questa meraviglia di questo notturno questa è un'altra delle predelle fiorentine uno dei primi cieli stellati atmosferici se non il primo della pittura italiana e questi due giochi di luce questo l'angelo che proietta la luce e guardate che gioco che fa la luce che entra sotto la tettoglia ribatte questo fascio di luce proietta l'ombra questa è una visione pienamente se non prospettica matematica ma di profonda e piena consapevolezza di cosa significa spazio luce atmosfera descrizione sono dei vertici da questo punto di vista ecco straordinari e appunto volevo chiudere questa nostra passeggiata tra Fabriano gentile con questi traguardi allegretto Nuzzi grandissimo maestro che racconta racconta la società la luce il lusso la religiosità e gentile da Fabriano che riesce a portare come un vero umanista come un vero umanista dentro la pittura la capacità dell'uomo di vivere il paesaggio di vivere la luce di vivere tutto il bello del creato e questo è un pensiero un atteggiamento davvero umanista che non sta nella conoscenza dei codici greci dei codici latini delle umane littere questo mondo di costruzione rinascimentale che viene spesso appunto costruito a Firenze ma sta proprio nella capacità di evocare quanto di meglio quanto di più sensibile l'uomo può percepire nella natura nel proprio animo nell'amore per il creato e ritrasferirlo in pittura come un fotografo grazie molte per averci fatto entrare veramente con sapienza nella nostra tradizione attraverso questo percorso che ci ha fatto cogliere la preziosità la bellezza e la novità dei nostri pittori tra 300 e 400 e quale tradizione abbiamo veramente alle spalle forse dovremmo rifletterci un po' più spesso non so se c'è qualche domanda da fare allora la lasciamo a giovedì Fabio tornerà con noi giovedì lo ringraziamo adesso facciamo 5 minuti di sosta per riprendere poi con il professor Papetti